Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video Oggi siamo su Assassin's Creed Syndicate Allora, eravamo rimasti a questo punto Dobbiamo Praticamente, non so come si usa più Ecco, anch'io sono R più A Usiamo il montacarichi Per salire su, raga Per salire su si usano i montacarichi Ovviamente Non più gli ascensori perché non siamo ancora Nell'epoca della creazione degli ascensori Scusatemi se non riesco a parlare Però è sera I primi episodi che avete visto Li ho registrati ieri Dipende da che giorno lo metto Per ottenere risultati Questo qui è uno scienziato Dovreste ricordarvi il vostro debito con l'ordine Miss Thorn Voi mi trattate come se fosse un cane Sir David Tornerò qui domani E se non avrete svelato il segreto di quell'oggetto Altro che Altro che cani Vi darò impasta ai lupi Buona giornata Simpatica, eh? Devo dire Simpatica Sono venuto a fare un giro turistico Signori Chi ti ha mandato? Chi ti ha mandato? Prima interrogate quell'uomo Poi portatelo al laboratorio Ok Ok Questo è un laboratorio quindi Da quanto abbiamo capito Aspettate che Provo a fare un numero Porca trota Ecco mi è caduto anche il Nintendo Non si è visto niente Peccato era un numero Ok Aspettate Ciao Ok Ora possiamo Passare ai fatti seri Essere un assassino Gli assassini sono più forti Quando si infiltrano In zone pericolose Da punti elevati Usa l'occhio dell'aquila Sì Ok Ok Qui questa è una seconda È una missione secondaria Uccidi i nemici Con barili sospetti Scusate anche se ho questi capelli Orribili Eh vabbè Usiamo l'occhio dell'aquila Abbiamo individuato questi Due nemici RT Più L Più B Col balcio della fede Ah ok Anch'io sono cretino Sono un cretino Perché non l'ho visto? Vabbè Qui li ho ammazzati Questo qui Mi tocca ammazzarlo così Ah non è morto Ok Super combo Cade Li deprediamo tutti e due Perché se no Non ci guadagniamo i nostri money Come ho già detto Nella scorsa puntata Ok Li deprediamo Sempre Sì Queste presterline Sono veramente tante Presterline Ok Immagino che qui dovremmo uccidere Quelli lì con i barili sospesi Qui fa Qui fa qui Lì Ok Questi due li abbiamo uccidi Ah c'è anche quello Non l'ho visto Vabbè Questo lo uccidiamo così Tranquilli Tanto non ci vede nessuno Non facciamo neanche troppo rumore Qui al caldo Lo sta depredando Ah ok Sempre queste Madonna Dan solo tre sterline Quanto Gli davano pochissima paga Ok Certi ne hanno addirittura una Troppi danno Troppi Certo Ecco Vediamo se riusciamo a completarci La La missione secondaria Quello lì mi ha visto Ma dai Vabbè Lanciamo gliene due Li ho finiti Però dovrebbe essere comunque morto Sì Tenta di morire in 5 secondi però eh Ah niente coltelli da lancio No dai Non me li ha ridati Evidentemente me li ridà Ah non possiamo fare la seconda La missione secondaria Che palle Che sfiga Volevo farla No Vabbè dai Li ammazziamo così Tanto sto Questo qui è enorme Non mi fa mai un cacchio Ah no è vero Non faceva niente A Jacob Jacob Quello lì L'ho ammazzato No vabbè Sì Cos'è Oh Come fanno a farmi così male Scusami È vero che siamo tutti lì Oh meno male L'ho schivato L'ho schivato Ma per più Devi fare il rifornimento De tre dei corpi Ma perché non muori 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 Basta Ok uno è morto Questo muo Siamo morti noi Madonna mia Quanto ti fa incavolare Assassin's Creed Quando muori Basta 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 Ce l'abbiamo Dimmi che ce l'abbiamo I coltelli Di nuovo Mi prego Speriamo di averceli Ok Sei in una zona vietata Cinque Meno male Meno male Siamo tornati qui Ah qui dovevo fare Ok Ho capito Dobbiamo rifare il balzo della fede RT Più L più Balzo della fede Così Cadi No perché Vabbè No ma Sono credente B Ok A Ok Vai Questo è mio Fine morto Pom Perché cadono sempre Ok Mi va ora Sulle balle di pieno Lo so che ce li ho al massimo Qui Come facciamo Eh non lo so Ma no ma qui è come prima Allora Quello lì ammazzò Isis Isis No ma dai Ma che sfiga Non posso neanche ammazzarli Ma dai Non riusciremo mai a completare la missione secondaria Ah beh sto qui è morto eh Vabbè no Vabbè Ok Andiamoci a riprendere il nostro coltello da lancio Speriamo che ce lo ridia Perché non posso depredarlo Vabbè evidentemente non avrà Vediamo se riusciamo almeno ad ammazzarli Vabbè quello lì Ma visto E vabbè Ma visto solo quello lì però Ok Ok Ora noi dobbiamo Questo è facile Ma perché c'è È così Aspetta Ok Non è morto nessuno Ma dai Ma non ci credo che non è morto nessuno Un nemico è morto Vabbè sto qui No se ne sono Beh sono un cretino Aspetta che lo sto depredando Sto depredando zio Aspetta aspetta No 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 Dai Fammi ammazzare uno 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 Bibi Dai 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 Che lo Dai che l'ho schivato Contraattacco Vai che l'ho schivato Rompi la difesa Vai 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 Contraattacco Vai Rompi la difesa Vai 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 È un combattimento corpo a corpo ragazzi È un combattimento corpo a corpo Vai vai Grande Evie Grande Evie Ce l'abbiamo fatta Madonna Evie Con che violenza Con che violenza Evie Ha ammazzato questi Nemici Ah no Questo l'ho già depredato Vero Ok Devo depredare Questo Che mi ha dato Un coltello Da l'altro Ce n'era ancora Uno Questo Vabbè che Non si sa mai E anche Questo Ok Questo è proprio Sempre easy Deprediamo anche questo Perché Tentiamo di non farci vedere Più che altro Ancora Dov'è Dov'è il montacarichi Vabbè Non è salendo da qui Scusami Ah no No potete usare il montacarichi Vabbè E Ci sono quasi Ok Un Parkour Abbastanza buono Cioè che poi sta anche piovendo Ci sono quasi Dice Evie Ok Possiamo Anche entrare da qui Questo è uno dei nostri punti d'accesso Un laboratorio segreto Ok Lì ce n'è uno Devo scoprire dove si trova Ho paura però che ce ne siano due Ok Cosa lo... Io ho fatto un headshot Dai Mi Io ho fatto un headshot Vabbè Ora muori eh però Non è che c'è un forziere Qualcosa Ok Ok Ma no Lasciala Ok Non ci capisco più niente Raga Da dove devo andare ora Ah con sto qui ancora Vabbè Allora avevo fatto Avevo fatto tutto Eh però da qui Non posso entrare E da dove passo Ok Posso da qui Ah Ma sono un cretino Ah vabbè Ho perso due bombe fumogene Così a caso Vabbè Va bene lo stesso Volevo depredarli Vabbè Ora C'è sto tizio Oh grazie mille Ero proprio in grossi guai Quando beh insomma Mi hai salvato Vabbè Questo lo salto Perché Poi Si vede che lui fa una magia E se ne va Tutte La seconda missione La missione secondaria Non siamo riusciti a farla Quindi Ah no è vero Questo è fighissimo Perché si è viva per Me lo ricordo Me lo ricordo Qui da dove devo passare Mi sono fatto male Ehi c'è un'intrusa qui Di qua Si Qui ce ne sono tipo due Oh Come l'ho ammazzato Ah ce ne sono altri due Dai che li ammazzo Li ammazzo facili Questi li ammazzo facili Si vabbè Cos'è 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 Rompista Difesa Madonna Ok Vai Sono morti Eh si Troppo Troppo violenta Troppo violenta Ho capito che dobbiamo Andarcene anche noi Però Troppo Chi m'ha visto Ah c'è questo Ok Vai 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 Ok Come faccio più a Devi fare riforni Non mi ricordo più Aspetta No così no Ah ok 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 Ho i coltelli da lancio Ok Premo per l'occhio dell'aquila Intanto però Un minuto Ce ne sono Ok Vabbè Questi Quando Quando È da solo Li ammazziamo Vè Proprio facile Quindi dobbiamo Depredarlo Ok Tanto io li Ah Questo dovrebbe Avere la chiave Mi sembra O l'entrata Oppure una cartina Per l'entrata Non ho fatto Dobbiamo entrare Qui dal treno Tanto non mi serve a niente Ammazzare questo Se non mi vedo Quello lì mi sa che lo dobbiamo ammazzare Comunque Perché ci vede Eh no Cacchio N'ho sprecato uno Mi inizia Vabbè Se riusciamo ad ammazzare solo quello Va bene lo stesso Ad ammazzare solo